Bibbia sacra, come glossa ordinaria. Padre Attilio Mellone ha firmato 12 opere su Dante Alighieri e per l'Istituto Enciclopedico Treccani ha curato la stessura di 18 voci dell'Enciclopedia Dantesca. Per oltre 60 anni ha studiato, approfondito e diffuso Dante e le sue opere, divenendo uno dei più insigni dantisti della Campania. La sua figura ritorna di grande attualità in questi giorni, alla vigilia del Dante Lì del 25 marzo. L'edizione 2021 è poi ancora più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta. La memoria di Padre Mellone è custodita e tramandata dai suoi confratelli francescani del Convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Superiore. Nella nuova sede della Biblioteca dell'Istituto, la terza, è conservato un fondo librario con quanto di più prezioso il dantista Mellone, ha raccolto in 60 anni e più di servizio alla cultura. Una raccolta preziosa che si inserisce nella secolare storia della Biblioteca Francescana Nocerina, che ha mosso i primi passi nel 1700 e che conta una raccolta di oltre 50.000 volumi. Lo scrittore napoletano, Domenico Rea, che durante il periodo bellico risiedeva qui a Nocera, risiedeva così e sicuramente aveva fatto amicizio con uno dei nostri frati, un certo Angelo Iovino, Nicola Iovino, che era anche un poeta scritto dei libri di poesia e con lui conversava e veniva qui in una nostra biblioteca per studiare e quindi parlavo con questo frate che sicuramente è di teologia, di filosofia, certamente. Ecco, quindi è una testimonianza, diciamo, storica di questo scrittore napoletano, Domenico Reo, che frequentava la nostra biblioteca evidentemente perché a Nocera non c'era niente per poter consultare e avere dei libri da leggere. E poi siamo in questa biblioteca che di recente, diciamo, realizzazione, ci sono dei fondi importanti e parliamo del nostro protagonista, padre Attilio Mellone, che ha lasciato un fondo quasi unico su Dante, in quanto lui era un illustre e insegne d'antista. Un insegne d'antista, sì, padre Attilio Mellone, prima, ormai stavo quasi alla fine, prima di morire, qualche anno prima, mi chiese di portare tutti i suoi libri qui a Nocera, perché avevamo già allestito la biblioteca e raccoglievamo un po' dei libri, perché molti dei libri che sono qui in questa biblioteca moderna sono tutti fondi di frati studiosi che hanno lasciato a noi, sia padre Attilio Mellone con tutto il suo fondo che abbiamo, il più cospicuo è quello di padre Attilio Mellone e tutti i suoi libri su Dante li abbiamo noi e sono i libri più consultati, gli altri libri non vengono per niente consultati, anche perché non stanno online. Un patrimonio così importante di libri, di cultura e di storia, come può essere, come deve essere messo a disposizione della collettività, in special modo il fondo Mellone che in questo periodo in cui si ricorda Dante è di così grande attualità? Io credo che sia sicuramente un motivo sia per la nostra diocesi che per le nostre città dell'agro avere questo punto di riferimento di cultura dantesca. Attendiamo la giornata di domani, il 25 di marzo, proprio l'esortazione apostola, la lettera apostolica di Papa Francesco proprio sulla figura di Dante e questo sicuramente darà uno slancio agli studi su Dante e quindi ci darà anche l'opportunità di mettere a disposizione, ovviamente per chi vuole, questo patrimonio che noi possediamo, proprio perché la figura di Dante possa essere realmente di nuovo riscoperta, amata e studiata da noi italiani. Ricordiamoci che lui è veramente il padre della nostra lingua italiana e della nostra cultura. Grazie.